200 pagine, un centinaio di foto, una Piacenza mai vista. Con l'aiuto di un elicottero, lo studio Bams Photo ha realizzato migliaia di scatti dall'alto della nostra città. Marcello Spigaroli, Anna Stevani e Stefano Pronti hanno analizzato, selezionato e commentato il materiale per pubblicare il volume Piacenza dall'alto, edito da Tipleco, un'opportunità per testimoniare i cambiamenti della città nel corso dei secoli. Una Piacenza che non conosciamo, perché ovviamente andiamo a piedi in bicicletta o in auto e quindi in elicottero ci vanno in pochi, è una percezione della città che non esiste ancora se non accompagnata da questo libro e in effetti ci mostra una città nella sua composizione genetica, che è quella di fondazione romana, quella del 218 a.C., nella quale si è mantenuta, ricostruita e consegnata fino ad oggi. E poi si vedono in questo libro, perché è fatto in questo modo progressivo, storicamente progressivo, l'ampliamento medievale da Piazza Borgo, da Sant'Antonino, la definizione delle mura farnesiane cinquecentesche e poi il dilagamento della città a fine Ottocento e primi Novecento. Un centinaio di foto, ma non solo, ci sono anche i suoi appunti, le sue note, le sue descrizioni. Sì, il libro prende per mano qualsiasi piacentino anche ben informato e ben conoscitore della sua città e lo porta a osservare bene la foto, a seguire una descrizione fisica, ma anche vedere la storia retrostante di questo pezzo di città. E quindi è come se ripassasse o addirittura scoprisse una storia che non vede tutti i giorni.